La cultura è la migliore arma contro ogni forma di violenza. Si deve fare di più, si deve fare di più tutti quanti, cominciare a non lasciare solo le persone che denunciano, capire certe volte perché delle persone non hanno il coraggio di denunciare, cercare di comprendere i silenzi, capire che molte violenze accadono nelle mura domestiche, quindi già nelle scuole si può percepire se qualche ragazzo o ragazza è vittima di violenza, lo possono capire i compagni e le compagnie, lo possono capire gli insegnanti, le istituzioni devono essere più vicine. E' attenzione perché la violenza non è solo quella fisica, c'è la violenza psicologica, c'è la violenza sui luoghi di lavoro, c'è la violenza istituzionale, dobbiamo creare delle comunità in cui la solidarietà, l'amore e l'uguaglianza sono gli elementi fondanti della vita di ogni persona.